Oggi dipingiamo con gli ama beads Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Video nuovo, video divertente Ma non fatevi ingannare dal materiale Non è un video per bambini O meglio, non è un video solo per bambini Anche per i bambini adulti Oggi infatti faremo delle vere e proprie opere d'arte Iniziamo con la celebre opera di Vermeer La ragazza con l'orecchino di perla Un quadro semplice semplice da fare Specialmente con le perline da fondere Non ci credete? Allora, pollice in su sulla fiducia Condivisione e spostiamoci sul piano da lavoro Per trasformare una banale cornice dell'Ikea In un pezzo da museo Ed ecco l'occorrente per creare la nostra opera d'arte Una cornice di questa Con il telaio galleria Insomma, queste un po' più spesse Stanno molto carine Questa è riba dell'Ikea Comprata a 3 euro Ed è una 15x15 Per fare il nostro soggetto Useremo le perline termofuse Quelle che si sciolgono col ferro da stilo Potete usare o i pisla dell'Ikea O le più famose Amabiz Vabbè, non so quali siano le più famose Queste sono più facili da reperire in loco Andate all'Ikea e le acquistate Ma hanno una gamma colori ridotta Rispetto al fustino delle Amabiz Vi faccio vedere proprio il fustino chiuso Se volete comprarlo Vi lascio il link qua sotto in info box Questo qui Anche se ha un aspetto così fanciullesco In realtà la gamma colori contenuta al suo interno È veramente molto vasta E vi permette di affrontare Una serie di soggetti anche più impegnativi Naturalmente ci occorrerà un ferro da stilo Della carta forno E la base Il telaietto Per creare la nostra opera d'arte Iniziamo subito Come prima cosa seleziono i colori Che credo mi possano servire Fare una selezione prima Mi permette poi di procedere In maniera più spedita nel lavoro E di non perdermi nella formulazione del disegno A cercare una perlina di cui non trovo proprio il colore Quindi io seleziono più o meno Quelli che voglio siano i colori della mia opera A questo punto inizio a fare il mio quadretto Costruiamo un quadrato Che non è proprio un quadrato Infatti i margini superiore e inferiore Avranno 19 perline Mentre quello verticale Ne avrà 20 E voilà La nostra cornice è pronta È composta da due lati Da 19 perline E sono il lato superiore e il lato inferiore E due lati da 20 perline Che sono i due lati Laterali appunto I due lati verticali Adesso facciamo la prima riga Tutta nera E anche la verticale Tutta nera E nera Saranno anche le prime quattro righe verticali Dopo la cornice Adesso continuiamo a compilare i neri Allora Dopo il giallo La prima riga di neri è tutta completa La seconda riga di neri A sinistra A due A sette perline Quindi a queste quattro Che abbiamo messo Ne aggiungiamo altre tre Mentre dall'altra parte Partendo dall'altra sponda In totale Ci sono quattro perline nere Quindi Una l'abbiamo già messa Due Sotto questa riga Ci sono sei perline Quindi un in meno A sinistra Così Mentre dall'altra parte Ce ne sono ancora quattro Come nella parte superiore Scendiamo Nella riga successiva In totale Ci saranno tre perline nere Quindi aggiungiamone due Mentre dall'altra parte In totale Ce ne saranno cinque Quindi a quelle che abbiamo messo Ne aggiungeremo una Nella riga sottostante Ce ne saranno ancora cinque Quindi Ne aggiungeremo un'altra E dall'altra parte Rimane tutto invariato Ce ne saranno in totale tre Quindi ne aggiungeremo Altre due Nella riga sottostante Aggiungiamo un'altra perlina Cinque perline E saranno cinque Anche In quella successiva Ancora In quella successiva Ancora In quella successiva Ancora Devono essere Due Quattro Sei Da cinque Sei file Da cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Torniamo dall'altra parte Dove avevamo messo Le perline da tre Sotto queste due file da tre Ce ne andranno Altre tre Da tre Quindi Dovranno essere Un totale di cinque Da tre perline Uno Due Tre Quattro Cinque Ci siamo Adesso Nella seconda riga In verticale Mettiamo Due perline in verticale Una E due Ok Contiamo tre perline Uno Due Tre Che salteremo Alla quarta perlina Affianchiamone un'altra Quindi Uno Due Tre E alla quarta Ne affianchiamo un'altra Sotto Quest Due Ne metteremo Altre due Quindi Ci saranno tre perline Nella riga successiva Di nero Così Sotto questa Altre due E sotto Questa riga da tre Ce ne sarà Una da quattro Quindi aggiungeremo Oltre a quella messa Altre tre perline Le ultime due righe Saranno da tre perline In totale Quindi aggiungeremo Due perline per riga Spostiamoci dall'altra parte Partiamo Dal basso La prima riga Di neri A quattro perline La seconda riga Di neri A quattro perline La terza riga di neri E la quarta riga di neri Hanno cinque perline Quindi aggiungiamone Ancora una La quinta e la sesta riga Hanno sei perline Quindi aggiungiamone due Per ogni riga La riga seguente Avrà una perline In più rispetto a questa E quindi ne aggiungeremo Tre E la riga seguente Avrà un'ulteriore perline In più Quindi ne aggiungeremo Quattro La riga successiva Avrà due perline In meno di queste Quindi ne avrà Sei Che e quindi Ne andremo ad aggiungere Soltanto due Rispetto a quelle Che abbiamo già messo Et voilà E già si intravede La sagoma Non è vero? Adesso cominciamo a compilare La nostra ragazza Con l'orecchino di perle Intanto prendiamo Il beige chiaro E partendo Dalla prima linea vuota Mettiamo cinque perline Mettiamo cinque perline Mettiamo Un marroncino Leggermente più scuro Nella riga successiva Iniziamo con Quattro perline Azzurre E proseguiamo Con una beige chiaro Una Leggermente più scuro Un marroncino Più scuro E un'altra Beige chiaro Nella riga successiva Ancora Utilizziamo Due celesti Due azzurri Un po' Più spenti E due celesti Un beige chiaro E due scuri Due marroncini Più scuri Nella linea seguente Cominciamo con Un azzurro Due beige chiaro Un altro azzurro Un altro azzurro Un altro azzurro Un altro azzurro E un altro azzurro Quindi quattro in totale Seguiti da un beige chiaro E uno scuro Adesso continuiamo Con tre beige chiaro Un beige rosato Sotto Cominciamo con Un bianco Intervallato da un beige chiaro Un altro bianco E un altro beige chiaro E uno più scuretto Sto andando a completare l'incarnato Adesso prendo un blu un po' più scuro Lo metto qua Un celeste Faccio un cambio Perché il chiaro scuro Non mi convince Dalla quinta riga Accanto ai due beige Elimino i quattro celesti E inserisco gli azzurri Un po' più grigiastri Che secondo me Ci stanno meglio Poi metto un blu Un azzurro grigiastro E un altro blu Se avessi avuto Un tono di blu Più chiaro Ci sarebbe stato meglio Se voi lo avete Usatelo leggermente più chiaro Due blu sotto E uno A chiudere Continuiamo invece Accanto all'azzurro A mettere la sequenza Beige chiaro Beige scuro Come Sopra Uno e due Continuiamo la riga sotto Sotto il bianco In verticale Mettiamo due beige chiari Sotto il beige chiaro Mettiamo tre beige rosati Sotto l'altro bianco Mettiamo due beige chiari E un beige rosato Sotto invece Quest'altra linea Mettiamo un beige chiaro E due beige rosati Qui mettiamo Un altro scuro Un beige chiaro E altri due scuri E mettiamo uno scuro Anche qua Che purtroppo È troppo scuro Ma questo Allora A questo punto Nell'altra riga Mettiamo Qui Un altro beige scuro E ragazzi miei L'orecchino di perla Eccolo qua Tutto attorno All'orecchino di perla A L Vanno tre neri Proprio per metterlo In evidenza Adesso Continuiamo Qui Accanto A queste tre perline Mettiamo tre beige chiari Qui Tre scuri E qui Ne mettiamo Due chiari Così piano piano Iniziamo a chiudere Il nostro soggetto Adesso Andiamo a chiudere In orizzontale Quindi Siamo arrivati Ai due scuri Mettiamone Due chiari Due bianchi Quindi Uno beige chiaro Uno beige scuro Alternandoli Un altro beige chiaro E un altro beige scuro Alternandoli Sotto questo Mettiamo Un altro beige scuro E sotto questo Mettiamo un bianco Così chiudiamo Già un'altra riga Procediamo A chiudere Le verticali corte Mettiamo Un altro beige chiaro E due azzurri Due celesti Proseguiamo E mettiamo Due beige chiari E due bianchi Proseguiamo E andiamo anche sotto E mettiamo Un beige scuro E un marrone E un marrone Appare finalmente Il marrone Voilà Ora facciamo La riga successiva Partiamo proprio dal basso Perché viene più semplice Mettiamo due marroni Un beige scuro E un azzurro E un azzurro Quindi un beige scuro Un azzurro Un bianco E ciò che rimane Sarebbero due perline Completiamo la riga Del beige chiaro Quindi beige chiaro E beige chiaro Voilà Arriviamo Al bianco E mettiamo Al bianco successivo Questo E mettiamo Una, due, tre Perline marroni Voilà Quindi una beige scuro Marroncino Diciamo E altre tre marroni A fianco Mettiamone Due marrone Subito dopo il bianco Sto procedendo In verticale Due marroni Una Beige scuro E quattro marroni Sotto Adesso Qui Su questa linea Mettiamo Tre bianchi Uno Due E tre E scendiamo Sotto al primo bianco Mettiamo Un marrone scuro Un beige chiaro Un beige scuro E un marrone scuro Quindi Un marrone scuro Un beige Scuro E un altro marrone scuro E adesso Ci mettiamo Anche tre Beige chiari Ok Sotto il secondo bianco Mettiamo tre Beige chiari E dopo Tre beige scuri Detti anche marroncino chiaro Dipende Non ci incartiamo Con i colori Adesso Sotto il terzo bianco Un beige chiaro Uno scuro Uno chiaro Uno scuro E due chiari Adesso Sotto al nero Mettiamo Un bianco Quindi Due beige scuri Uno chiaro E due marroni Nella riga successiva Metteremo Tre beige scuri E un beige Chiaro Gli ultimi due perline Saranno Due beige scuri Finito E' arrivato il momento Di attaccare Il ferro da stilo Sovrapponiamo Della carta forno E con delicatezza Senza spostare Le perline Cominciamo a compiere Dei movimenti Rotatori Per fare fondere Schiacciando Naturalmente Le nostre Perline Olè Dovremmo Eserci Stacchiamo Dolcemente Perché scotta No vabbè E Allora Molti lo usano Da qua A me invece Piace da qua Perché la ragazza Con l'orecchino di perle E da là E do un colpetto Anche da questa parte Ovviamente Non pressato Come dall'altra Ok Apriamo la nostra Cornicetta Inseriamo Sul retro La nostra Ragazza Centriamo La bene E mi serve Un cartoncino Bianco Perché vedete Che smargina Leggermente Quindi metterò Un cartoncino bianco O un cartoncino nero Per chiudere meglio La composizione Ok Ho preso Un vecchio quaderno Di Enzino Ne ho ritagliato La copertina E adesso Inserisco Il mio soggetto E siete pronti Per la magia La ragazza La ragazza Con l'orecchino Di perle E bella E pronta Per essere sfoggiata Nel museo Di casa vostra E chi l'ha detto Che gli Amabiz Sono un gioco Da ragazzi Bene Adesso vi lascio Alle foto In modo che possiate Strapolare lo schema In maniera Più agevole Facendo un fermo Immagine E buon divertimento Lasciatemi tra i commenti Scritto Se volete Che affrontiamo Altre opere famose Traslate In forma Così Divertente Di pisla Sono dei quadretti Deliziosi Per le stanze Dei bambini E per le case Ultramoderne Una parete Un pochettino Più Inriverente In cui potrete Magari Associare A delle opere Famose E dei bei quadri Qualche quadrette Di questi Un po' A prendere in giro Anche la storia dell'arte O quantomeno A simularla Nelle forme semplici Della creatività Pollice in su Condivisione Vi lascio alle foto E ci vediamo dopo Che ho ancora Qualcosina da dirvi Ciao Ditemi se non è bellissima Ditemi se non è una cosa Spettacolare Io la adoro Come La immagino Come Quadro Di una parete Un po' Sovversiva Oppure Come bomboniera Fatta dai bambini Sapete adesso ci sono le comunioni Le cresime E allora Perché non fare fare Ai bambini La bomboniera Tante opere d'arte Rivisitate Dalla loro creatività Di questa Per copiarla Fermate l'immagine Nella foto Dove si vede bene E contate Le varie perline Da inserire È il metodo Più semplice Guardate che carina E allora Spazio alla creatività Andiamo al museo Impariamo la storia dell'arte Attraverso un materiale Giovane Nuovo Non precludiamoci nulla Se questo video vi è piaciuto Pollice in su E come vi dicevo prima Lasciatemi tra i commenti Proposte Se vi va Per nuove opere d'arte Da fare sempre Con queste perline Io vi saluto Dandovi sempre appuntamento Al prossimo video creativo Da Ombretta Ed Arte per te Tutto Alla prossima volta Ciao